Giovedì 23 novembre alle 18.30 prendono il via gli appuntamenti del Laboratorio Pastorale che si terranno presso il Centro Fratelli Tutti, in Viale Ancona numero 141 a Foligno. Come spiegano gli organizzatori Don Alessandro Picchiarelli, docente responsabile della Pastorale Vocazionale della Diocesi di Assisino, Cera Umbra Gualdotadino e Don Giovanni Zampa, vicario per la Pastorale della Diocesi di Foligno, il Laboratorio Pastorale consiste in tavoli di lavoro a cui il Vescovo Sorrentino sottopone dei temi perché vengano studiati, approfonditi ed elaborati in maniera da poter offrire alle comunità parrocchiali e agli operatori delle chiavi di lettura e delle linee operative. In questo primo anno sperimentale, aggiungono, prenderanno spunto da alcuni capitoli essenziali del libro di Monsignor Sorrentino, crisi come grazia per una nuova primavera della Chiesa. In questo incontro ci concentreremo sui primi tre capitoli del testo per comprendere le ragioni e le dinamiche di una crisi senza precedenti. Per una più curata organizzazione del Laboratorio Pastorale è importante confermare la partecipazione inviando una email a vicariopastorale.com oppure inviando un messaggio al numero 389 822 7975.